Quanti siamo questa sera? Questa sera siamo in 6. Vedrai, preparato il menù che piacerà a tutti. E per i vini? Abbiamo una schiava con il risotto e i funghi, un lagrain con il brasato e per aperitivo un pino bianco dell'Alto Adige. Ok, quindi cucina piemontese e vini dell'Alto Adige. Ciao ragazzi, come state? Tutto bene. Allora, il nostro riso è in tavola. Voi siete già tutti pronti? Sì, siamo tutti pronti, già tutto in tavola. Mi raccomando, prima di riempire i piatti, riempiamo i bicchieri e direi di partire con un pino bianco dell'Alto Adige. Ciao ragazzi!